Bene bene bene, sfida Akinator contro Andrea Stramaccioni, nuovo allenatore dell'Inter. Chi la sbutterà? Giocherà. Devo proprio vedere se ce la farò. A me non lo trova. Devo vedere se il nuovo allenatore dell'Inter è abbastanza famoso per Akinator. Oppure è una merda, come io penso. Vediamo chi mi dà ragione. Allora, come allora il tuo personaggio? Madonna, sarei tentato di rispondere sì, ma invece no. Personaggio italiano? Sì. Più di 40 anni? No. Oddio, è uno Spotsman? Beh sì. Non lo so però, ma certo non è altro. Vabbè sì. E' esercato a player di NandoFootball a capo di NL6, direi abbastanza un video. E' esercato a football social player, no. No. E' esercato a player di NandoFootball a capo di NandoFootball a capo di NandoFootball a capo di NandoFootball. il NandoFootball? Un basketball player, no. Per me Stramageni non lo conosce. No, non è una vita. Non lo riesci a trovare. Sì. Ah, cazzo, me l'ha sgammata. e non trasporto croce, merda Utilise un character di get to Roma Stanno c'è e non so se di Roma I don't know Does your character play a foglio ventus? No No Is your character in the... ...the world right there? No Is your character in the... ...the world right there Cazzo Captain of this deal I think of Nooo L'ha trovato Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ci rimango proprio di merda L'ha trovato Non ci credo Non ce neanche... nada Capitola Mi stupisce こ apenas non ci credo E vedi Assusta come un bambino Avanziquela Peccato Un sagno C'è diventato già famoso Peccato Alcuno l'ha messo dentro Non ce la foto Niente da fare Ho perso Tanti saluti A Sam Come